complimenti hai completato questo percorso quindi riassumendo analizza cosa vuoi e definisci nel dettaglio l'obiettivo poi raccogli le idee per elaborare un piano di azione scrivilo e appendilo al frigorifero 3 agisci ponendo attenzione a tutti i pericoli elencati e seguendo le contromisure proposte 4 festeggia e poi riparti da capo con un nuovo obiettivo abbiamo quindi ottenuto un percorso ciclico che è nel contempo sostenibile ed efficace ora io ti lascio delle degli esercizi da fare poi se hai piacere ti lascio anche il link al mio libro o comunque basta che vai su amazon digiti angelo rizzo il titolo di questo percorso e troverai facilmente il libro e nel libro sono riportati anche le schede che io ho elaborato per facilitare questi questi esercizi gli esercizi sono necessari sostanzialmente per allenarsi a raggiungere l'obiettivo spero che ti sia piaciuto questo percorso e se ti fa piacere scrivimi una recensione un feedback arrivederci